Hai ereditato una casa e non sai come procedere? Gestire la vendita di una casa ereditata può essere complicato, in special modo quando ci sono più eredi coinvolti. Occorre concordare il prezzo di vendita, le condizioni della transazione e la divisione delle quote aspettanti. Con il supporto adeguato tutto può diventare molto più semplice. Da oltre 40 anni noi della Rubini Immobiliare ti offriamo l'esperienza e le competenze necessarie per guidarti in ogni passaggio dell'operazione immobiliare. Una valutazione accurata della proprietà, assistenza fiscale e legale e soprattutto mediazione efficace tra le redi per assicurare accordi equi e soddisfacenti per tutti. Vuoi avere maggiori informazioni su come possiamo aiutarti? Clicca su Scopri di più e compila il modulo per una consulenza gratuita. Ti mostreremo come possiamo semplificare la vendita della tua proprietà ereditata.